Romano Guardini Romano Guardini è un autore che mi ha sempre appassionato, c'è sempre qualcosa da imparare dalle sue pagine, un grande autore del Novecento, ecco in italiano sono presenti veramente decine e decine di traduzioni, ha scritto su moltissimi temi, sulla preghiera, sulla libertà, sull'università e poi tanti suoi scritti sono raccolti in una preziosissima opera omnia. Ma come non perdersi in questo paesaggio meraviglioso di filosofia, teologia, pedagogia, meditazioni, analisi letterarie? Ecco allora una piccola guida, un'antologia per appassionarsi ed entrare dentro a percorsi della mente e dello spirito di un grande autore del Novecento. Romano Guardini, Silenzio e Verità, edizioni Messaggero, Padova